Si è tenuta questa mattina nella chiesa Maria Santissima della Stella di Alcamo Marina la tradizionale celebrazione della messa in ricordo dell'appuntato Salvatore Falcette del carabinire Carmine Apuzzo, vittime della strage di Alcamo Marina avvenuta tra il 26 e il 27 gennaio 1976. Anche in occasione del 43esimo anniversario dell'Ecidio, infatti l'arma dei carabinieri vuole onorare la memoria dei suoi caduti. L'agguato fu starrato da malviventi ad oggi rimasti ignoti. Al termine della celebrazione eucaristica, alla presenza delle autorità religiose, militari e civili, è stata depositata una corona di alloro presso la stela commemorativa dell'Ecidio. Il comune di Alcamo aveva anche previsto di celebrare in municipio nella stessa giornata di oggi il conferimento della cittadinanza onoraria ai due militari Apuzzo e Falcetta, ma l'evento è stato rinviato adatta da destinarsi. Quella notte in carabinieri Apuzzo, aveva 18-19 anni, con un anno di seduzione, e l'agguata di Salvatore Falcetta era già stato trasprimito proprio da un anno dell'evento, tuttavia rappresentava l'amore e lo stato, introdescolava il nostro, con il solo scopo di contribuire a noi. Oggi, a distanza, si può proposerete, ma come ogni anno e come sarà sempre. Grazie. I carabinieri di l'amore di l'amore di l'amore di l'amore di l'amore di l'amore di l'amore, con l'amore di l'amore di l'amore di l'amore, e con un minuto di120. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.